Imprese, mercati, tecnologie, innovazione, tutto questo è War Room Business. Buonasera e bentornati a War Room Business, la rubrica di approfondimento economico di War Room. Oggi raccontiamo la storia di un'impresa che da cent'anni produce, sviluppa e commercializza gas in diversi settori produttivi, dall'agroalimentare al meccanico metallurgico, al chimico farmaceutico ed anche in ambito sanitario. È la storia del gruppo Sappio, che è un'azienda familiare fondata ormai cent'anni fa nel 1922 a Monza e che oggi è una vera e propria multinazionale con 2.200 dipendenti, 25 stabilimenti produttivi in Italia e all'estero e risultati in costante crescita anche durante questi anni di pandemia. Per conoscere maggiormente questa realtà abbiamo con noi Alberto Dossi, che è il presidente del gruppo Sappio, nonché rappresentante della seconda generazione delle famiglie fondatrici delle aziende. Benvenuto a War Room Business, presidente. Buonasera. Allora, come detto, quest'anno voi compiete cent'anni e infatti l'azienda è stata fondata nel 1922 dalla sua famiglia Dossi e dalla famiglia Colombo. Siete tuttore azionisti e presenti in azienda. Che cosa rappresenta per voi questo prestigioso anniversario? Beh, rappresenta prima di tutto felicità e soddisfazione di avere raggiunto un traguardo assolutamente così importante. Cento anni sono veramente tanti, capitano giustamente una volta sola e vogliamo naturalmente celebrarli nel modo giusto, anche perché l'azienda se lo merita. Io credo che sia un grande impegno celebrare i cento anni, ma sia anche un dovere nei confronti delle generazioni precedenti, dei fondatori. In cento anni di storia la Sappio è passata attraverso le guerre, la seconda guerra mondiale, attraverso momenti difficili, attraverso momenti di rinascita, che secondo me vanno assolutamente celebrati. Quindi è una grande soddisfazione da parte di tutti i componenti e tutti i soci dell'azienda, nonché naturalmente dei dipendenti e di tutti i collaboratori. Caspita, effettivamente è veramente una grandissima realtà. Questa tradizione centenaria è un po' come viene invece con lo sguardo al futuro. So che avete un piano di crescita strategica denominato Next, molto importante. A che punto siete di questo piano? Allora, il piano Next è un piano che mira ad arrivare al miliardo, perché al miliardo nessuno ha fatto sogni o nessuno si è alzato di notte dicendo che dobbiamo raggiungere il miliardo. Il miliardo è una taglia sicuramente di fatturato che ci consentirà di riuscire a rimanere sui mercati internazionali che sono sempre più competitivi. Il problema secondo me delle industrie, delle medie e piccole industrie italiane o delle family company è proprio la taglia e la taglia per stare sui mercati internazionali deve essere una taglia importante. Come sta andando il piano Next? Oggi siamo a 700 milioni di euro di fatturato, non evidentemente ma c'è ancora un salto importante da fare e lo faremo con crescita interna che però la crescita interna è sicuramente limitata nella sua espansione, ma la grande capacità di crescita la faremo con acquisizioni. Le acquisizioni evidentemente sono state anche un po' rallentate dal Covid perché purtroppo le acquisizioni implicano il fatto di continui colloqui, di continui rapporti con le aziende e tutto è rimasto veramente, è diventato difficile, ancorché una delle ultime acquisizioni fatte in Francia l'abbiamo perfezionata durante il Covid, però era già due anni che la studiavamo. Quindi noi abbiamo sicuramente in animo di continuare a fare acquisizioni per riuscire a raggiungere il miliardo di euro. Se non sbaglio ne avete completate almeno quattro nell'ultimo periodo, poi abbiamo letto che, ma avete dichiarato pubblicamente, che puntate a farne anche tante diverse nei prossimi anni, almeno 15 nei prossimi anni. Quindi l'obiettivo è quello di crescere il fatturato e anche di voler diventare i consolidatori del vostro mercato a livello internazionale con queste acquisizioni. Allora sì, vorrei fare una precisazione, le 15 non sono, diciamo ci sono trattative, ci sono situazioni che potrebbero essere interessanti, però chiaramente le acquisizioni sono un terreno difficile, non si sa mai come vanno a finire, sono trattative lunghe, lunghe. Il nostro discorso è quello di consolidare in Europa naturalmente il nostro business, che praticamente è un business da una parte industriale e dall'altra parte medicale. Quindi è un consolidamento vero e proprio del nostro mercato. A questo punto può raccontarci un po', possiamo entrare un po' nel dettaglio del vostro business e di come è strutturato, quali sono le caratteristiche un po' della vostra attività? Ce le può raccontare? Sì, assolutamente. Allora, la Sapio praticamente ha due parti importanti, la parte industriale e la parte medicale. Più o meno si equivalgono. Diciamo che oggi è 55%, 60% la parte sanità e 40-45% la parte industriale a seconda un po' degli anni, eccetera. Naturalmente le due componenti si intrecciano molto bene, anche se sono due business completamente separati. Richiedono competenze assolutamente separate e anche da un punto di vista proprio di strategia sono completamente diverse. La parte industriale direi che è la parte storica, perché il 17 novembre del 1922 la Sapio è partita proprio con la fabbricazione dell'ossigeno, dell'idrogeno, dell'acetilene come casti saldatura per la parte industriale. Nella parte industriale siamo strutturati, abbiamo tre driver che puntano sul futuro, che sono una parte l'energia e siamo fortemente impegnati sia con l'idrogeno, che è un vettore energetico sostenibile, sia col biometano. Poi c'è una parte ambientale e questo è sempre stato cultura dell'azienda essere vicino all'azienda, vicino all'ambiente, mi scusi, con la depurazione delle acque reflue, con la depurazione dei suoli, con la depurazione dei fumi di combustione. Noi siamo sempre stati molto molto attenti all'ambiente e quindi tutto quello che è questo settore ci interessa. Il terzo è l'agroalimentare, anche qui se noi pensiamo al futuro dell'agroalimentare, quanto sia importante la conservazione degli alimenti, oltre che la surgelazione, perché noi facciamo anche surgelazione con azoto liquido, ma conserviamo con miscele binarie o terziarie gli alimenti affinché sia prolungata la shelf life e la vita di banco nei supermercati, anche lì veramente abbiamo un grande impegno. Questo per quanto riguarda l'industria. Per quanto riguarda la sanità, invece, abbiamo un mercato totalmente diverso che è partito semplicemente dalla fornitura di ossigeno agli ospedali, ma oggi va dall'assistenza domiciliare integrata all'ossigenoterapia, alla ventiloterapia, alla nutrizione interale, alla conservazione di cellule biologiche, con la Biorep. Diciamo che i campi che abbraccia la parte medicale sono tantissimi, anche le terapie del sonno. siamo impegnati veramente su tutta la linea. Abbiamo anche un portale che si chiama pazienti.it dove facciamo videoconsulti per le persone che vogliono naturalmente sapere qualcosa di più sulle proprie patologie. Ecco, direi che sono mercati completamente differenti, ma che poi alla fine si integrano in una cosa. Se noi pensiamo che il futuro è legato, il futuro dell'uomo è legato all'ambiente, quindi fattore energetico, quindi ambiente stesso, quindi agroalimentare e la parte sanità, noi siamo fatti di quello che respiriamo e di quello che mangiamo. E quindi tutti questi campi direi attraversano orizzontalmente la qualità di vita. Quindi voi volete anche avere un ruolo nella transizione energetica come gruppo? Assolutamente, assolutamente. Giocheremo una parte importante. Noi siamo stati sicuramente antesignani perché nel 2000 abbiamo sperimentato il primo bus a idrogeno a Torino in associazione temporanea di impresa in occasione delle Olimpiadi invernali. Nel 2004 abbiamo fatto il primo distributore nel progetto Zero Regio, ovvero regioni a emissioni zero a Mantova. Insomma, noi all'ambiente siamo sempre stati comunque legati e siamo legati anche al futuro dell'energia. Il futuro dell'energia oggi è molto complesso, è molto 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 difficile, stiamo stiamo vivendo un momento drammatico di caro energia, però la strada verso la decarbonizzazione è stata ben tracciata fin dal 2015 dall'Europa con l'emanazione della direttiva DAFI sui nuovi combustibili puliti e la bisogna naturalmente andare. È evidente che questa strada è lunga e complessa, non sarà a costo zero perché richiede grandi investimenti, ma sono investimenti importanti per il futuro e per la pulizia del pianeta, ma sono anche opportunità per tutte le filiere industriali di poter creare nuove possibilità di lavoro. Certo, tutto questo deve avere una sostenibilità economica e in questo momento con il caro energia è difficile collimare le due cose quando la Germania sta riavviando le centrali al carbone e noi parliamo di decarbonizzazione e insomma la strada è tracciata, però bisogna fare anche i conti con l'economia e con la sostenibilità delle situazioni economiche che poi ci vuole una grande base sociale di consenso. Questa è una strada che è tracciata, è una strada che sarà imprescindibile. Io credo che sia il biometano ma soprattutto l'idrogeno sarà un vettore energetico del futuro molto importante perché è versatile, perché serve nei settori industriali hard to abate, serve nella parte della mobilità, serve nella parte di compensazione di equilibrio delle reti elettriche e servirà probabilmente in un secondo momento anche per quanto riguarda il settore delle costruzioni, delle case e tutto quanto. Tornando un po' a parlare di voi, dei numeri, il vostro 2021 dovrebbe chiudere, o si sta chiudendo come ci siamo detti, con 700 milioni di ricavi, un margine operativo lordo di tutto riguardo di 165 milioni di euro. Quali sono un po' le previsioni per l'anno in corso, i prossimi anni? Cosa vi aspettate dal mercato? Bellissima domanda. Allora, le previsioni dovrebbero essere, il 2022 sarà un anno spartiacque, cioè un anno molto difficile in cui bisognerà risolvere molti tasselli, il primo fra tutti è quello energetico. Se in questo primo trimestre, come io penso, sia il governo naturalmente darà dei grandi aiuti, ma sono aiuti puntuali che servono evidentemente a risolvere questo sistema e trovando invece un futuro energetico che dovrà creare, per quanto riguarda l'Italia e l'Europa, una sorta di autonomia energetica, io vedo i prossimi anni assolutamente molto bene. Quest'anno c'è il rischio che gli energivori, noi siamo un'azienda energivora, ma gli energivori come le acciaierie, come le industrie della carta, come le vetrerie, come le industrie della ceramica, come le industrie dei fertilizzanti, quelle potrebbero anche prevedere degli stop, delle fermate, creando discontinuità nella produzione, creando naturalmente ulteriore confusione nella logistica già complicata dal problema delle materie. Quindi è un anno assolutamente delicato, bisogna fare assolutamente molta attenzione, io sono confidente che molte cose si potranno risistemare, però sicuramente dipende tutto, dipende molto da questo primo trimestre e dipende molto dal fatto di riuscire a risolvere una volta per tutto il fattore energia, che ripeto è un discorso che si deve prevedere a livello nazionale, ma si deve assolutamente fare a livello europeo. Nel futuro, in questo campo mi sento di dire, bisognerà sempre più investire sulle energie rinnovabili, quindi il solare termico, il fotovoltaico, il geotermico, direi che i principali sono il fotovoltaico e l'eolico, sulle comunità energetiche, che è un altro fatto importante, e su quello che è l'efficienza energetica. Lì c'è molto da fare, sarà un salto oltretutto culturale da fare per tutti, di impiegare l'energia bene senza sprecarla. Domanda un po' a bruciapelo, state anche guardando, visto il racconto che ci ha fatto, a una possibile quotazione in borsa del gruppo Sapio? No, allora no, siamo con gli americani, non abbiamo in previsione quotazione in borsa e andiamo avanti così. Tra l'altro il rapporto con il vostro socio statunitense ci sembra sia un rapporto molto stabile e di crescita, diciamo. Guardi, il rapporto con l'Air Product & Chemical, con il nostro socio, è un rapporto fondato molto, molto sul trust, sulla fiducia. noi abbiamo veramente un rapporto ottimo e quando c'è un rapporto ottimo fra soci si condividono non i problemi ma le opportunità e le opportunità di crescita. noi con loro stiamo parlando di grandi opportunità di crescita, anche loro sono una società del settore impiegata fortemente nell'idrogeno e con questo io credo che avremo molte cose da fare insieme. Bene, la ringrazio molto Presidente Dossi, continueremo a seguire gli sviluppi del vostro gruppo e la ringrazio ancora. Grazie anche a chi ci ha seguito a casa, appuntamento lunedì prossimo con una nuova World Room Business. Arrivederci. Grazie mille, arrivederci, buona serata a voi.